Lo sapevate che la malattia più diffusa al mondo è l'amore? Dopo aver mescolato la realtà con la finzione in una famiglia perfetta, Paolo Genovese va a scomodare il padre della psicanalisi in tutta colpa di Freud, storia di un padre alle prese con tre figli decisamente particolari. È la storia di un analista alle prese con tre casi disperati, una libraia che si innamora di un ladro di libri, un gay che decide di diventare etero e una diciottenne che perde la testa per un cinquantenne. Ma il vero caso disperato sarà quello del povero analista. Sentiamo il regista Paolo Genovese. In realtà in questo film la psicanalisi è vista molto in maniera metaforica, come conoscenza della mente, ma soprattutto come difficoltà di conoscere la mente. È un film molto sul rapporto genitori figli, su storie d'amore dei figli e su accettazione da parte dei genitori e penso che in questo caso qualunque genitore vorrebbe avere non una ma cento lauree in psichiatria, in analisi, per riuscire a capire i propri figli. E nonostante il nostro protagonista Marco Giallini sia un esperto della mente, appunto un analista non riesce a capirci niente delle proprie figlioli. Con tutta colpa di Freud, Genovese realizza una commedia romantica e divertente sull'amore e sulla famiglia, che vede tra i protagonisti del film, oltre a Marco Giallini, Vittoria Puccini, Anna Foglietta, Laura Adriani, Alessandro Gasman e Vinicio Marchioni, una splendida Claudia Gerini. Un film contemporaneo che tocca appunto temi molto attuali e quasi quotidiani, perché sembrano appunto temi che non ci riguardano, poi invece ci toccano molto da vicino, quindi penso che sia una bella sfida poi riuscire comunque con ironia e con leggerezza a raccontare alcuni drammi e problemi poi di relazioni amorose e non.